Oh che comoda! Mentre lui vi fa vedere come si sbottisce la poltrona, io mi metto di qui e inizio a colorare le strutture. Togliamo la vecchia tappezzeria utilizzando un levachiodi. Ci aiuterà a eliminare i chiodi vecchi, le punte, le graffe e tutto. Ultimi dettagli e voilà! Ora stendiamo il dark sand, due mani pure su tutta la superficie, usando un pennello a punta che va bene bene nei fregi. Damiano inizia a stendere le cinghie, la base perfetta per la nostra seduta. Antichizzo con la cera graffite. Ora con un po' di cera jasmine tolgo l'eccesso e con una spugna abrasiva delicatamente creo un leggerissimo decapè. Ora la magia di Damiano inizia, con i diversi strati di goma piuma, resinato e la bellissima stoffa in stile Tual de Jouy. Un filo di passamaneria a rendere il tutto perfetto, la cornice che mancava. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao ciao!